Scopra, raccora, raccora, lasciare i posteggi dell'indecisione, girare la chiave e accendere il cuore, perché domani l'abbiamo molto migliore. Ma io vorrei sapere qualcosa, ma come si può? Scoprami, curame, e un po' di scala interessa, salita bene, liberi 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 tutti da punto. Sono fatto per far liberi, 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 tutti ciò che è, questo è ora che ci viene, liberi, 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 liberi. E adesso, attenzione, modeggiamo sul posto per prepararci al passo più schivo che c'è